Grandolfo Auto, concessionaria DR, è tutta la simpatia che potrete trovare qui e naturalmente in tanti la conoscete già, se non l'avete fatto venite perché ne vale la pena. Intanto un saluto, vabbè aspetta, arrivo da te Sebastiano, Nicolasa e Massimo. Buonasera, ciao. Perché so che quando prendi la parola tu poi, dai, Sebastiano Grandolfo naturalmente, vai Sebastiano. Signori e signori buonasera a tutti voi, ben ritrovati qui in Grandolfo Auto, noi portiamo il sorriso, sì, bene sì, di ogni giorno in casa vostra, nell'ambito del possibile, perché? Perché noi offriamo in particolar modo, per chi ha bisogno di un'autovettura, la felicità. Ebbene sì, di queste vetture abbiamo veramente la felicità. Perché? Perché tra prezzo e qualità, dove abbiamo avuto dai giornalisti l'AdWord 2018, grazie a voi clienti che ci avete fornito la vostra fiducia, la nostra qualità, grazie al nostro presidente Massimo Dirisio, che si sta facendo in quattro per aiutare il popolo italiano, dando il lavoro, dando le vendite, il prezzo, la qualità e tutte le garanzie e sicurezza, addirittura la DR3, ma questa è una sorpresa che vi diremo dopo. Passo la parola a Nicolasa, il nostro player off, dove nella, buonasera a te Nicolasa, e Massimo, che vi parleranno delle nostre autovetture DR. La Rosi è che dire, ormai è un mito, è una persona che ci segue ormai da anni e noi ci susseguiamo. Grazie anche ai loro interventi sulla TV, riusciamo a fare questo programma e creare lavoro. Diamo lavoro agli italiani, DR forse Italia, per l'Italia bisogna tanto da lavorare. Passo la parola a Nicolasa, che vi estenderà delle nostre autovetture DR. A te Nicolasa. Buonasera, buonasera a tutti. DR3, abbiamo la fortuna di averla nella nostra gamma, vettura full optional di serie, fari diurni a LED anteriori e posteriori, cerchi in lega da 17 pollici, interni nuovi, il restyling che ha subito, quindi interni in pelle totale, tettuccio apribile panoramico. Ho la fortuna di guidarla tutti i giorni ed è uno spettacolo, con 30 euro si fanno 600 chilometri. Quindi macchina assolutamente, vernice metallizzata di serie, bicolor. Massimo, in che cosa ci può sorprendere ancora questa vettura? Nicolasa, intanto complimenti che hai esternato quello che sono le tue sensazioni quotidiane. Ma DR3 perché ci sorprende di nuovo? Perché la DR3 è stata appena soggetta di un restyling, quindi passate qua in concessionaria a Milano, in via Alberto Caroncini 11, a Piacenza, in via Rodolfo Boselli, a 81-83 e qua a Pantigliate, nella nostra sede principale. DR3 che non solo ci sorprende per gli ultimi aggiornamenti ricevuti, ma perché, signori, Grandolfo Auto questa volta ha scritto la storia, pensate, sarà possibile estendere la garanzia, proprio come fosse un sigillo di qualità. Provate a pensarci, quando tempo indietro avete avuto 30 anni, noi vi garantiamo che per altri 10 anni la vostra verve, la vostra qualità e la vostra eterna giovinezza rimanga la stessa, perché su DR3 è possibile estendere la garanzia a 10 anni a chilometraggio limitato e senza rifranchigie, garanzia che non è stata estesa su mio padre. Ebbene sì, 10 anni a chilometri illimitati. L'autovettura sulla DR3 siamo riusciti a portarla fino a 10 anni di garanzia, con un accorgimento protetto da parte nostra, ma venite in concessionaria a scoprire i dettagli in merito. Ma Grandolfo Auto fa ancora una marcia in più. DR3, come giustamente continuiamo a fare da un bel periodo, perché è molto apprezzato da parte vostra, 3.000 chilometri gratuiti per chi acquista l'autovettura a GPL. E quale miglior benvenuto da Grandolfo Auto sono che offrirvi 3.000 chilometri sulla DR3 per incominciare ad apprezzare le sue qualità. Non abbiamo molto, ma siamo molto umani, siamo così. Non resta che dire il prezzo. Il prezzo, lasciamolo dire a Nicolás. 14.900 euro la versione a benzina, 1.000 euro in più per il GPL. E io continuo a pagare. 15.900 euro. Questo è il contesto. Un regalo, veramente un regalo. La tassa IPT, chiaramente, quella è una tassa regionale che non possiamo fare nulla. La tassa IPT esclusa, c'è. Bene, allora a questo punto io direi, passiamo alla parola a Massimo, che ci presenta la DR4. Via. La new entry della gamma DR. A te Massimo. È arrivato il momento della DR4. La signora di casa DR, pensate ai prezzi di 17.000 euro benzina, 18.000 euro benzina GPL, 19.500 euro benzina e metano. Abbiamo un'autovettura che prevede tutto di serie. Ma cos'è quel tutto di serie? Entriamo subito nel dettaglio. Servo sterzo e recondizionato ormai sono accessori obsoleti sulla gamma DR, perché in effetti vengono contemplati da 4 videocamere, una supposta su ogni lato. I sensori di parcheggio anteriori e i sensori di parcheggio posteriori, che quindi vanno in ausilio alle videocamere. Cerchi in lega scelti da 16 pollici sulla versione cross, 17 e 18 sulla versione sport, monitor da 8 pollici interni avvolgenti e tanto altro. Non resta che venire a conoscere qua in concessionaria, perché oltre all'autovettura, credetemi, ne va la pena conoscere mio padre. Certo, a me fa piacere conoscere anche i clienti, perché questa autovettura non solo ha un interno in pelle, signori, che neanche a casa mia la qualità è così particolare. Venitele a toccare con mano, ma soprattutto, come diciamo sempre, venitele a provare su strada. Questa sinuosità dell'autovettura, questo fascino sportivo ma elegante, che va bene su tutte le persone, ma in realtà noi facciamo anche qui 4.000 km gratuiti a GPL. Quindi Grandolfo Auto vi premia, grazie per la vostra fiducia nei nostri confronti, vi premia per questo mese per 4.000 km a GPL. E se il premio, bravissimo papà, è quello che andiamo ad offrire e regalare sull'acquisto del veicolo, anche qua, della DR4, andiamo dunque ad aggiungere ulteriormente, e andiamo a coccolarvi invece in questo caso, perché anche sulla DR4 sarà possibile estendere la garanzia a 7 anni, a chilometraggio illimitato e senza le franchigie. Cosa aspettate? Passate a conoscere l'autovettura DR4 insieme a tutta la sua famiglia, perché questo è il momento della DR4, con addirittura 4 videocamere. Passo la parola a Nicolas, che qui adesso addirittura regaliamo le macchine, sulla DR0 che sta avendo veramente un'enfasi importante. A te Nicolas? Allora, sì Sebastiano, ha detto tutto lei, la stiamo regalando. Vettura, mi ricollego alla DR4, full optional di serie, per cui cerchi in lega, sensori posteriori di parcheggio, vernice metallizzata, quattro alzacristalli elettrici, climatizzatore, metri elettrici, autoradio, chiavetto USB, chiusura centralizzata, telecomando, testa chiave, tutto a un prezzo di... 7.890 euro, sono tutti chilometri zero, a cui c'è da aggiungere solo il passaggio di proprietà. Eh vabbè, ma ci sarà il vincolo del finanziamento. Non c'è, no, non c'è il vincolo del finanziamento. Anzi, se volete fare finanziamento con l'aggiunta di erottamazione, avete 1.000 euro di ulteriore sconto. E quindi partiamo da 6.000? 6.990 euro. Signori, se non è questa la felicità, ditemelo voi. Passiamo invece alla DR5 Massimo, che ci darà consenso. Questo, signore, attenzione, fino a esaurimento scorta, è una promozione di non dire 30.000, 40.000, poi 7.000 di sconto. No, è un prezzo netto, tutto di serie, non a partire da, è tutto di serie, quindi forza Massimo. È quasi un peccato, non vi nascondo che sono sempre un po' dispiaciuto nell'offrire un'autovettura di questa qualità a 12.900 euro con finanziamento, a 13.900 benzini, GPL e anche la soluzione a metano. Ma perché dico dispiaciuto? Perché credetemi, questa è un'autovettura davvero di sostanza. Tanti sono gli argomenti di cui possiamo parlare, tetto in cristallo, videocamera posteriore, sensori di parcheggio, interno misto pelle, tessuto e tanto altro. Tanto altro come anche sotto l'aspetto tecnico, pensate, catena di distribuzione e una bobina per cilindro. Ma anche DR V5 vi aspetta qua in concessionaria per provarla, toccarla con mano e per scoprire i 7 anni di garanzia, chilometraggio illimitato e senza rifranchigie, ma ultimo ma non ultimo, il mio papà. Ecco qua, è anche sulla DR V, fine usurimento scorta delle autovetture, in promozione grazie al nostro presidente Massimo Dirisio, che giustamente non parla di sconti e quant'altro, ma dà a voi un prezzo così ribassato, il veicolo a un prezzo regalato, alla cifra che mio figlio viaggia. Credo che l'offerta è basata con finanziamento. Quindi 5.000 km gratuiti anche sulla DR V a GPL. Via. Passiamo invece tutti e tre sulla DR 6. Vai, proprio come Power Ranger. È arrivato il momento della nostra ammiraglia. DR 6 è un'autovettura, non smetterò mai di dirlo, un'autovettura che oltre chiaramente alle sue qualità e accessoristiche che di serie prevede, detto in cristallo, videocamera e tablet da 8 pollici, sono solo alcuni di questi, è un'autovettura di gran stile. Un 1.5 turbo benzina GPL o benzina metano spinge questa autovettura e ne regala davvero un grande piacere, oltre che un grande comfort di guida. DR 6 è un'autovettura che sorprende anche sotto l'aspetto dei consumi. Pensate, una bombola GPL da 70 litri di carico, con un pieno circa di 35 euro, barra 40 in base al costo, si ha una percorrenza che va dai 500 agli 800 km basati sul vostro circuito. Venite a scoprire DR 6 presso le filiali Grandolfo Auto a Milano, Pantigliate, Piacenza, Paullo. DR 6, proprio come tutto il resto della gamma, vi permetterà di conoscere il mio papà, che non fa null'altro che girarmi attorno come fosse l'orbita. Eccoci, fate come la nostra madrina, la nostra Seredova, dove pubblicizza la nostra DR 6. Fate come lei, venite a provarla su strada, venite a risparmiare, venite a acquistare la DR 6 con gran qualità. Addirittura anche sulla DR 6, oltre quello che la nostra DR offre ai nostri clienti, Grandolfo Auto, ebbene sì. 6.000 km anche sulla DR 6 a GPL promossa in omaggio alla nostra clientela. Massimo, per finire. Fantastico, 6.000 km anche qua, un fantastico benvenuto per tutti i nostri clienti, ma anche qua, la qualità e le caratteristiche della DR 6 sarà possibile garantirle per 7 anni a chilometraggio illimitato, senza le franchigie, e chiaramente non solo perché... Fantastico, tutto questo signore, attenzione, le promozioni non sono associate, però vi devo garantire tutto quello che vi abbiamo detto e la verità, la felicità, e venite a provarla in strada, che ci saranno i nostri consulenti Massimo e Nicolas, alla vostra attenzione e alla vostra soddisfazione. Grazie ancora di cuore. Ringrazio tutti i clienti, vi aspetto qui a Pantigliate nella sede e nelle varie sedi di Grandolfo Auto. Grazie, con stima e un abbraccio a tutti. Grazie, ciao. Ciao. Nel frattempo faccio un appello, ho perso le mie chiavi, quindi chiunque le abbia ritrovato, un saluto tra l'altro Bruno Vesperi porta a porta, se avesse avuto informazioni nelle mie chiavi... Ma io poi ti dico, ma Nicola, sì, io so che c'è anche... Questa è la domanda. Non ce la posso fare. Aggiuntivi, chilometri limitati. DR4. Tre lettere, anzi due lettere, un numero, ma ecco qua, per voi in esclusiva dalla gron... Guarda, Rosi, ti risolvo subito il problema delle tempistiche su questi montaggi televisivi. DR4, come la DR6, la DRV5, la DR0, hanno tutto di serie, costano poco, vedete i concessionari che le facciamo conoscere. Ciao. Questo è un dialetto milanese. No, accessionalmente, quella è una cosa... Se io quella sera, se io quella sera andavo al cinema e mangiavo l'anguria, mangiavo l'anguria prima che facciamo la bacia. E non un ucristiana che senti. Un ucristiana che senti. Brianzolo, tra Bolzano e la Brianzo. Il dobo. Idea. C'è anche il fratello? Siamo arrivati. Ma sembra tu stai a mezzo come lui. L'onacqui, non lo sono diventato come loro. Va bene. Donne, venite a comprare le DR6. E siamo arrivati al momento che più mi piace. Aspetta, aspetta, c'è il colore che suona. DR6 che suona il telefono. E allora io sfrutto questo momento per salutare tutte le impiegate e le segretarie d'Italia che ci seguono e che lavorano presso le altre concessionarie. Contattatemi. Quattro avete pubblico di rosa. Rosy, Rosy Vetrina dell'Auto, seguitela su Instagram. La Vetrina dell'Auto. Per chi la segue invece sfruti il suo canale per trovare il mio tag e contattarmi. Ciao. Però per il numero di telefono io vi do il mio. Ciao. 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 Ciao.